Palla a volo mondiale a livello femminile, vale a dire Antonio Perdomo e Eugenio Giorgio. 6 a 5 Italia che tocca la grande con il Lamuro e alla grande difende con Delcore. Poi però non riesce a passare la Piccinini e c'è qualche scintilla sotto rete. La prende con un sorriso la Piccinini per questa reazione un po' eccessiva da parte di Sanchez. La Sanchez l'abbiamo vista spesso anche nel mondiale dell'anno scorso, è tendenzialmente portata sempre a giocarsela faccia a faccia con l'avversario.